La testo Renzi Day ha avuto inizio con l'operazione Corso Pulito. Poco prima che arrivasse il Premier, infatti, una squadra di operatori ecologici ha spazzato il pavè all'ingresso della prefettura, ramazzata ad persona. Insomma, mentre l'area antistante, Palazzo di Governo, è stata dalle prime ore del pomeriggio blindata da un massiccio schieramento di forze dell'ordine. Ma di polemiche o contestazioni, nessuna traccia. L'unica vittima del servizio d'ordine è stata la pizza tricolore con cui Carmine Ragno voleva mangiare Renzi. A Margherita del Premier, così come battezzata, è stata infatti requisita dagli uomini della sicurezza e sistemata lontano dall'entrata della prefettura, quasi fosse un oggetto contundente. Non è andata meglio per i cittadini e giornalisti relegati dietro un recinto di transenne reduce del patto per i Napoli. Il Presidente, dopo aver consumato il pranzo presso un noto ristorante della provincia, con un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ha fatto tappa ad Avellino. Impossibile avvicinare o solo vederlo il Premier a bordo di una lancia tema con i vetri oscurati. L'auto, accompagnata da una nutrita scorta, si è infilata direttamente all'interno della prefettura. Una volta raggiunto il Salone Strangers, il Premier è stato accolto da un caloroso applauso. All'uscita stesso copione, da Renzi nemmeno un cenno di saluto a tutto gas verso il Teatro Gesuardo per l'intervento sul referendum. Deluse le centinaia di ammiratori, soprattutto donne, stipate da ore dietro le transenne speranzose di strappare all'affascinante Premier, almeno un selfie. Dell'incontro con il rottamatore parlano invece i sindaci, il Presidente dell'Alto Calore del Stefano, i parlamentari e il Presidente della provincia. Ha parlato del protagonismo dei comuni come fattore di sviluppo del Sud. È stata un'ampia partecipazione, diversi sindaci sono intervenuti. Molto molto bene, molto molto preparato, come sempre, lui è uno molto vicino al territorio. Una previsione, una verifica, un monitoraggio a tre anni di distanza da questa riforma della giustizia, della geografia giudiziaria che va fatta. Devo dire la verità, Renzi ha riconosciuto che non è stata una buona riforma. Credo che bisogna fare un plauso a Renzi perché effettivamente all'alta velocità è partito un primo lotto, partirà un secondo, un terzo lotto a breve e un quarto, un quinto lotto a aprile e maggio, credo.